Isola dei famosi sondaggio 15 aprile 2024 chi uscirà stasera fra Cadi, Luce, Samuele e Peppe. E veniamo quindi al nostro sondaggi sull'isola dei famosi per comprendere chi uscirà stasera definitivamente dall'isola dei famosi. Almeno questo sembra per essere l'indirizzo degli autori del programma. In un secondo momento è prevista una fase dove gli eliminati andranno in una seconda isola, ma per il momento si procederà con le eliminazioni tradizionali. Abbiamo chiesto quindi sulle nostre piattaforme Instagram, sul sito web, su X, chi state preferendo fra i vari concorrenti del programma. Questi i dati aggregati. Ricordiamo che in nomination c'erano la modella di colore Cadi Gaye, l'ex attrice porno Luca Caponegro, il ballerino Samuel Perone e il N.I.P. Peppe di Napolo questi i nostri dati al momento. Chi volete salvare all'isola dei famosi? Prima Cadi Gaye col 38% delle preferenze. Seconda luce Caponegro con il 25% delle preferenze. Terzo Samuel Perone 20%. Quarto Peppe di Napoli 13%. Insomma fondamentalmente secondo il nostro sondaggio se la stanno giocando il N.I.P. Peppe e il ballerino di Ballando con le stelle Samuel Perone. Grazie a tutti! Grazie a tutti